Covid, il bollettino settimanale prodotto dal Dipartimento Assoe parla di contagio, ospedalizzazioni in calo in Sicilia. Ad oggi sono state somministrate 1.444 quinte dosi, guardando la settimana che va dal 31 ottobre al 6 novembre, la curva epidemica che in riferimento ai nuovi positivi scende rispetto alla settimana scorsa del 6,14%, pari a 8.135. L'incidenza è di 169,43 casi per 100.000 abitanti. Il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina, Trapani e Siracusa. Ad essere più a rischio sono le persone dai 60 anni fino agli over 90, soprattutto se soggetti fragili diminuiscono le nuove ospedalizzazioni. Sulla campagna vaccinale dal 3 al 9 novembre, il 25,8% tra i 5 e gli 11 anni sono stati vaccinati con almeno una dose. Hanno completato il ciclo primario 66.487 bambini, pari al 21,14%. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,84%, mentre ha completato il ciclo primario di vaccinazione l'89,49% dell'obiettivo regionale. I vaccinati con terza dose sono il 72,35% degli aventi diritto. Dal 7 settembre il Ministero della Salute ha autorizzato la somministrazione della dose booster aggiuntiva con i vaccini mRNA bivalenti, origina all'Omicron BA1, agli over 60, alle persone di elevata fragilità agli over 12 in attesa della terza dose, includendo anche operatori sanitari, operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza. Dal 23 settembre è stato autorizzato l'utilizzo dei vaccini mRNA aggiornati alle varianti BA1 e BA45 per la somministrazione della quarta dose su richiesta dell'interessato a tutti gli over 12 che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni. Infine il Ministero ha dato il via all'uso dei vaccini bivalenti in quinta dose ai soggetti con una marcata compromissione della risposta immunitaria e dal 17 ottobre la somministrazione è stata estesa agli over 80, agli ospiti in RSA e alle persone over 60 con fragilità.